Noi quello che possiamo lo facciamo, lo siamo attrezzati per il possibile, per l'impossibile. Conti alla mano nel 2016 sarebbero circa 3 milioni di euro spesi dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno per gli interventi di manutenzione ordinaria di fossi corsi d'acqua nel territorio aretino. Se osserviamo le immagini di queste ultime ore è piuttosto difficile capire dove questi soldi abbiano sortito l'effetto sperato, che facciano parte dell'impossibile. Noi abbiamo fatto una serie di interventi che, come facciamo tutti gli anni, che riteniamo importanti per la prevenzione. Poi è chiaro che se avvengono fenomeni purtroppo oramai di natura ordinaria, dove cadono circa 120 mm in tre ore, non si può fare tutta la manutenzione che si vuole ai corsi d'acqua della nostra realtà, ma il problema rimane. Certamente noi abbiamo un problema per quanto riguarda la città, soprattutto di natura fognaria. Lì è un problema veramente importante, che andrà un po' rivisitata questa situazione. Oltre al problema delle fogne abbiamo quello anche dei tombini, perché per i tombini, soprattutto una stagione come questa, dove cadono le foglie, si intasano facilmente e anche qui rappresentano un problema. Serve una riflessione complessivamente per tutti coloro che svolgono un'attività di natura pubblica, come anche il Consorzio Bonifico, come il Comune, come il Genio Civile, quindi la Regione Toscana, affinché si riesca ad avere una carta delle deficienze, una ricognizione su tutto il territorio, affinché si possa individuare delle soluzioni importanti. Grazie. Grazie. Grazie.